L'Udc riparte dai territori preparandosi al meglio ai prossimi impegni elettorali. Siamo ad un buon punto in tutta la provincia di Taranto, dice l'onorevole Gianfranco Chiarelli. L'occasione a grottaglie è quella della presentazione della segreteria cittadina. Ormai siamo a buon punto su tutto il territorio della provincia di Taranto. È un momento molto molto importante per questo partito in grande espansione. Stiamo chiaramente preparando tutta una serie di iniziative per far comprendere anche il progetto politico. Un progetto che va avanti da diverso tempo, l'Udc insomma semina. Lo fa strutturandosi nei comuni e con linee programmatiche che saranno presentate a breve. In questo momento siamo tutti quanti impegnati perché le richieste di adesione al partito sono tantissime. Sono richieste di adesione da parte di amministratori, consiglieri comunali, ma anche di liberi cittadini che hanno condiviso e hanno sposato il progetto politico che l'amico Lino Andrisano e l'onorevole Gianfranco Chiarelli stanno portando avanti da qualche mese. Ripartono da grottaglie, dicono, e ripartono dai consiglieri comunali che aderiranno nei prossimi giorni. Lasciando intendere dunque che a breve l'Udc avrà rappresentanti nell'assise cittadina della città della ceramica. Ripartiamo da grottaglie, una città importante, una città delle ceramiche, con gli organismi che verranno nominati questa sera ma con i consiglieri comunali che chiaramente aderiranno nei prossimi giorni e che andremo poi successivamente a ufficializzare.